Era bella, ma di una bellezza particolare, inusuale fra le donne italiane del primi novecento. Additata per la sua capigliatura rossa, una massa di capelli di un riccio naturale. Non portava mai il cappello, cosa che in quegli anni era considerata molto disdicevole per una gran dama. Era tra le prime a indossare larghi pantaloni e soprattutto non si agghindava mai con gioielli e dire che ne aveva ricevuti di bellissimi dalla famiglia. Inusuale era anche il suo ambiente familiare, un mix di borghesia cosmopolita d'oltreoceano e di nobiltà nera. Questa volta parliamo di un personaggio storico molto piccante, stimolante, una personalità del novecento. Parliamo di Virginia Agnelli e il libro di riferimento è questo. Virginia Agnelli, madre e farfalla di Marina Ripa di Meana e Gabriella Mecucci con un'introduzione di Carlo Ripa di Meana, edizione Minerva. Il libro ripercorre per la prima volta, di fatto, la storia di un'esistenza breve e straordinaria per intensità e drammaticità di una grande figura di donna, protagonista del novecento italiano e in parte anche della grande storia. Una figura affascinante, chiusa in una sorta di inespugnabile riservo tipico della famiglia, che ne è sempre stata la gelosa custode. Virginia Bourbon dal Monte Agnelli, madre amatissima di Gianni Agnelli, Umberto, Susanna e di altri quattro figli, bella, fragile, ma anche coraggiosa e combattiva, fu una sorta di farfalla leggera, colorata, la cui breve vita fu costellata di dolori terribili e di scandali cocenti. Non le venne risparmiato nulla, ma fu sempre capace di risorgere, di nutrire profonde passioni, amori, affetti, caldi e generosi. Nato nel 1899 a Roma, al piano nobile di Palazzo Barberini, dall'americana Jane Holland Campbell e dall'aristocratico Carlo Bourbon del Monte, principe di San Faustino. Virginia era bella, come la frase che abbiamo citato poco fa, di una bellezza particolare, naturalmente elegante, con un viso alla botticelli, incorniciato da una massa di riccioli ramati. Ma, come dice il libro, e vi leggo, una giovinezza felice, scandita dal matrimonio con Edoardo Agnelli e dalla nascita di sette figli, sarebbe seguita a una maturità durissima. Rimasta presto vedova, finì per scatenare l'eria del suocero, l'austero senatore Giovanni Agnelli, intrecciando un'appassionata relazione con lo scrittore Curzio Malaparte. Il senatore non glielo perdonò e cercò, con ogni mezzo, di toglierle la potestà genitoriale. Virginia lottò come una leonessa e alla fine riuscì a riprendersi i suoi sette ragazzi. Trasferitasi a Roma con i figli, grazie a un'opera di intelligente mediazione, Virginia favorì l'incontro di Papa Pio XII con il generale Karl Wolf, comandante supremo dell'ESS, in cui si decise la salvezza di Roma. La sua esistenza si concluse improvvisamente in un incidente automobilisco avvenuto il 21 novembre del 1945 nei presidi Forte dei Marmi. aveva solo 46 anni. Parliamo invece, per concludere, della autrice, o una delle due autrici del libro, Marina Ripadimeana. Si sa tutto o quasi di Marina. Dalla vita dei Parioli, figlia dell'avvocato Punturieri, Leonello, e di Vittoria Bedoni, all'esfiziosità dei salotti e della moda romana, fino alle amicizie con Alberto Moravia, Goffredo Parise, Bettino Craxi, sui testimoni di nozze, peraltro con Carlo Ripadimeana, che firma la prefazione del nostro volume di riferimento, come vi ho già detto. Fino ad arrivare ai film con lei e su di lei, libri che sono 14, questo è solo uno dei 14 libri, il più famoso i miei primi 40 anni, senza dubbio. Locuzione ormai è entrata nel parlato quotidiano, nel quale ha raccontato la sua pazza e avventurosa vita. Tormentato, ma costruttivo, il rapporto con la primogenita, passionale quello con il primo marito, forte, tenace e intellettuale, quello con il secondo. A lui la dedica su uno dei suoi libri, For Your Eyes Only, solo per i tuoi occhi. Animalista, madre di figli naturali adottivi, di Carlini, concorrente in reality show, stilista, attrice, quasi bisnonna o semplicemente rossa fiammante, un po' come la Virginia Agnelli del libro che abbiamo letto. Impossibile guidarla alla saggezza, come la zia Mame di Patrick Dennis, lei viveva la vita come un banchetto in cui solo gli stolti muoiono di fame. Mai concorde totalmente con qualcuno, sempre esibita con finta saggezza, cappelli, gabbie, fulmini, ranni, ciambelle, cerchi e retine, colori, forme, litigi e provocazioni, con le quali a volte si potevano non essere d'accordo, ma che in definitiva lasciavano quel certo senso di leggerezza che oggi un po' manca all'opinione pubblica o ai cosiddetti VIP 2.0. Per lei nessun epiteto migliore di guerriera pop. Nel finire della sua vita ha affidato con un coraggio da Leonessa a Radio Radicale e a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue ultime volontà prima di ricorrere alla sedazione profonda continuata. Una parola che non le era congeniale era sicuramente noia. Bello sarebbe in definitiva poterlo dire di molti altri. Grazie.